Sono tra 27 e 47 le persone ancora disperse nel naufragio avvenuto domenica a steccato di Cutro e quanto emerso nell'ultima riunione del centro coordinamento soccorsi aperta in prefettura Cortone sulla base delle stime delle forze dell'ordine. Le ricerche coordinate dalla direzione marittima di Reggio Calabria proseguiranno d'oltranza per tutto il fine settimana con mezzi aerei, navali, nucleo di sommozzatori e con il personale a terra di guardia costiera, questura, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile. Le condizioni meteo in peggioramento potrebbero però rendere difficoltose le ricerche. Dei 68 corpi finora recuperati in mare dopo il naufragio di domenica scorsa steccato di Cutro, la polizia scientifica ne ha identificato fino ad ora 56 anche attraverso videochiamate alle famiglie delle vittime. Il centro coordinamento soccorsi riunito in prefettura a Crotone ha rinviato a lunedì la decisione sull'espatrio delle salme così come richiesto da alcuni parenti e le vittime. Da Crotone è emersa infatti la necessità di coordinare le procedure di espatrio con la farnesina soprattutto per le vittime afghane che sono la maggior parte date le difficoltà a intervenire con i talebani. Dalla riunione è emersa anche la disponibilità del governo a farsi carico dei costi. Sarà formalizzata all'inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì prossimo, la delega ai carabinieri da parte della Procura della Repubblica di Crotone per l'acquisizione di tutti gli atti relativi alla gestione di Guardia di Finanza e Guardia Costiera del barcone carico di migranti che si è schiantato contro una secca ad un centinaio di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro. In questi giorni infatti il procuratore di Crotone Giuseppe Capocce fuori sede essendo dovuto rientrare a Lecce, sua città natale, per motivi familiari. Il magistrato dovrebbe rientrare in sede lunedì e dovrebbe essere allora che insieme al PM titolare dell'inchiesta Pasquale Festa sarà affidata formalmente ai carabinieri la delega all'acquisizione degli atti nell'ambito del nuovo filone di indagini, al momento contrignote senza ipotizzare un reato, aperto per chiarire quali siano state le decisioni prese dopo la segnalazione di Frontex del 23 e 3 di sabato 25 di un barcone a 40 miglia dalla costa calabrese. La Procura intende così accertare quali decisioni siano state prese e se vi siano state falle penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi. La guardia costiera è stata codardamente coinvolta in una squallida battaglia politica e chi l'accusa è ignorante o è in malafede. Io dico grazie agli uomini di mare faccio appello a certa politica e certo giornalismo, limitate la polemica. Io ho le spalle larghe, ho ricevuto tante accuse, le ritengo per lo più ingiuste. Così il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, in collegamento con un convegno nel porto di Palermo, parlando della strage di migranti a Cutro e rivolgendo una preghiera ai morti. Occhiuto ha votato sì al disegno Calderoli nella conferenza delle regioni che ha dato via libera al provvedimento con quattro voti contrari. Quando alle ragioni della comunità si antepongono motivi di interesse di partito, di appartenenza politica, non si fa mai un buon servizio a chi ci ha eletto. È quello che sistematicamente stanno facendo il presidente Occhiuto e la sua maggioranza su questa vicenda. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell'opposizione in consiglio regionale. In consiglio regionale della Calabria prosegue, è vietato parlarne, nessun dibattito, nessun confronte concesso. Occhiuto e il centrodestra preferiscono mettere il bavaglio a tutti e tirare diritto per la loro strada che tra l'altro nessuno ci ha spiegato ancora dove porti. Si va avanti senza confrontarsi. Io e il collega Tavernise abbiamo presentato una mozione per discutere di autonomia differenziata in consiglio regionale per avviare una discussione serena, un confronto anche serrato in una seduta del consiglio dedicata a un tema vitale per il futuro della nostra terra. Non avendo avuto alcuna risposta ho chiesto di discutere immediatamente di questo argomento, ma la maggioranza compatta ha votato no. La decisione del presidente Occhiuto di non dare parere contrario nella conferenza delle regioni al progetto Calderoli sull'autonomia differenziata è gravissima. Chiediamo la convocazione immediata del consiglio regionale. La Calabria non può consentire al proprio suicidio solo perché il suo presidente non sa dire di no alla sua parte politica, è quanto dichiara il capogruppo del PD in consiglio regionale Mimo Bevacqua. C'eravamo illusi, ha aggiunto Bevacqua, che i dubbi espressi dallo stesso Occhiuto nelle scorse settimane si trasformassero in un voto chiaro a favore della nostra terra e dell'unità nazionale, come hanno fatto Campania, Puglia, Emilia Romagna e Toscana, e invece si è allineato ad un'operazione che mira a spaccare le istituzioni del paese e si è uniformato ai desideri dalla peggiore propaganda leghista. E' tornato in libertà Pasquale Anastasi di 72 anni, l'ex dirigente del Dipartimento Turismo della Regione Carabria che era stato arrestato e posto ai domiciliari il 26 gennaio scorso nell'ambito dell'inchiesta Olimpo, condotta dalla DDA di Catanzaro ed incentrata sui presunti interessi dell'andrangheta delle Vibonese nel settore del turismo. Il Tribunale dell'esame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa a carico di Anastasi. Hanno percepito il reddito di cittadinanza presentando false dichiarazioni, per questo 164 persone extracomunitarie sono state denunciate dai finanziari del Comando Provinciale di Reggio Calabria a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti. Gli investigatori hanno approfondito le posizioni di 173 persone domiciliate principalmente nell'area tra i comuni di Rosarno e San Ferdinando. L'indagine, condotta dal gruppo di Gioia Tauro, ha accertato che 164 soggetti hanno attestato falsamente di risiedere nel territorio nazionale da almeno 10 anni. Grazie a questo, gli indagati hanno indebitamente percepito spettanze per oltre 263 mila euro. L'attività della Guardia di Finanza ha permesso di interrompere le procedure di assegnazione del contributo per oltre un milione di euro, bloccati preventivamente e quindi non percepiti, segnalando contestualmente all'Inps ai fini della revoca del beneficio. In Serie C, ultima giornata prima del derby calabrese, crotone e catanzaro che si giocherà lunedì prossimo. I giallorossi di mister Vivarini ricevono l'Abellino di Rastelli, mentre il crotone giocherà sul terreno del Picerno. Ascoltiamo mister Vivarini in vista della gara interna con l'Abellino. E' chiaro che però, poi voglio dire, qualche problema ce l'hanno perché non riescono sicuramente a sviluppare, almeno precedentemente non sono stati bravi a tirar fuori tutte le loro potenzialità, ma sicuramente contro il Catanzaro questo avverrà, quindi noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una grandissima squadra, ma i ragazzi nostri lo sanno, ne abbiamo parlato in settimana. E' una partita di alto cartello, perché comunque la piazza di Avellino è una piazza anche molto molto importante, quindi sarà sicuramente una gran bella partita, sperando che noi riusciamo a fare le cose che dobbiamo fare. L'abbiamo preparata nel modo giusto, perché comunque abbiamo analizzato un po' le partite precedenti di questa squadra e abbiamo, diciamo, calcolato le diverse situazioni a livello tattico che possono mettere in campo loro e quindi adesso aspettiamo domani per vedere come va. Ad ora ascoltiamo Mister Zauli in vista della trasferta di Picerno. La trasferta di Picerno la considero una trasferta difficile come quella di Francavilla, andiamo in un campo dove la maggior parte dei punti lo fanno in casa, è una squadra allenata bene per giocare propositiva e noi cerchiamo di fare altrettanto. Noi abbiamo un percorso più lungo, perché io l'ho detto a questi ragazzi, abbiamo il compito di fare i più punti possibile, la squadra ne ha già fatti tantissimi, perché è raro, vedendo anche gli altri gironi, che comunque è vero che c'è un po' di rammarico, perché probabilmente, senza probabilmente, la società, la città avrebbe voluto lottare fino all'ultimo, secondo una prima posizione, però è anche vero che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, perché piangersi addosso, perché non si è arrivati i primi non ci porterebbe da nessuna parte, quindi mi piacerebbe essere lucido nell'analisi e dire che questa squadra molto probabilmente si è conquistato un secondo posto molto importante, che tantissime altre squadre ancora si devono conquistare. Quindi noi dobbiamo essere intelligenti, furbi, competenti di cercare di sfruttare tutto il periodo che ci manca per arrivare nel miglior modo possibile agli eventuali play-off. E se la sfruttiamo tutti, ognuno per migliorare il piccolo, secondo me arriveremo ai play-off mentalmente e fisicamente, considerando l'autostima delle partite che mancano, cercando di farle tutte molto bene, arrivare al top, perché quella lì è ancora una possibilità per cercare anche di fare il derby con il Catanzaro, che so che è molto sentito, in Serie B. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.